Sicuramente oggi era necessario e importante essere qui in questo incontro perché la figura dell'infermiere è una figura fondamentale, rappresenta, come detto, anche in quest'ultimo periodo un po' la spina dorsale di tutto il Servizio Sanitario Nazionale e anche regionale. È sicuramente una di quelle figure che vede e tocca con mano le criticità che ogni giorno vengono rappresentate dai cittadini con il loro bisogno di salute ma che molto spesso non vengono neanche ascoltate. Questo deve essere un monito per tutti, deve essere un monito perché dobbiamo insieme in questa tavola rotonda mettere in evidenza quelle che sono le criticità soprattutto legate anche ad aspetti organizzativi, legati ad aspetti di umanità perché molte volte si dà molto spazio a quella che è la clinica ma non si dà spazio a quello invece che deve essere l'ascolto e quello che deve essere la cura dell'anima della persona perché proprio attraverso il dialogo, tant'è vero che nel nostro codice deontologico l'articolo 4 si parla di prendersi cura, si parla di relazione d'aiuto e se non esiste una relazione d'aiuto importante non può esistere neanche un concetto fondamentale che è quello dell'assistenza con l'individuo. Ma come siamo messi? Beh, come siamo messi è una domanda provocatoria perché devo dire che forse il Covid ha rappresentato una grande parentesi perché sono iniziate veramente una serie di assunzioni importanti adesso secondo me il problema fondamentale è quello di fare una riorganizzazione adeguata in base a quello che è il personale perché se noi pensiamo nel passato non c'erano mai operatori sociosanitari e quindi tutto veniva fatto dalla figura infermieristica che veniva anche demanzionato in quella che era il suo ruolo fondamentale oggi invece abbiamo figure di supporto anche nei ritorni e a fianco agli infermieri allora la cosa fondamentale è quella di riorganizzare in modo importante in modo funzionale a quelle che sono le esigenze dell'ammalato e del circondario che abbiamo nell'ospedale Molisani e del circondario Molisani